leggiamo insieme dal libro del profeta isai al capitolo 43 e dal versetto 22 signore parla al mio cuore tu non mi hai invocato giacobbe anzi ti sei stancato di me israele tu non mi hai portato l'agnello dei tuoi olocausti e non mi hai onorato con i tuoi sacrifici io non ti ho tormentato con richieste di offerte né ti ho stancato domandandoti incenso tu non hai comprato con denaro canna odorosa per me e non mi hai saziato con il grasso dei tuoi sacrifici ma tu mi hai tormentato con i tuoi peccati mi hai stancato con le tue iniquità io io sono colui che per amore di me stesso cancello le tue trasgressioni e non mi ricorderò più dei tuoi peccati risveglia la mia memoria discutiamo assieme parla tu stesso per giustificarti risveglia la mia memoria dice il signore in questo messaggio del profeta isai a dio davvero ci sorprende ci stupisce ci meraviglia sempre il signore perché il nostro signore è meraviglioso e qui nella sua bontà nella sua pazienza lo vediamo scendere come dire a tu per tu con l'uomo anzi con il peccatore dopo che ormai tutto sembra essersi spezzato l'uomo ha superato in limite per così dire è andato oltre il seminato ma dio facendo appello la sua capacità di dimenticare il peccato e di sapere come dimenticarlo vuole di nuovo riallacciare il rapporto con l'uomo e quasi con un certo accenno perfino di di umorismo il signore sorprendentemente fa diremmo lo lo smemorato non ricorda umanamente parlando la perdita della memoria certo è un sintomo di di debolezza talvolta un segno di vecchiaia in realtà quando gli uomini non ricordano appunto è perché sono stanchi sono debilitati hanno la mente affollata ma quando è dio che non ricorda più questo invece è un segno di forza come abbiamo letto è una dimostrazione di amore di benevolenza che va oltre i confini di quello che la mente umana potrebbe immaginare e dio dice risveglia la mia memoria così il signore pur avendo ribadito il suo disappunto verso queste condotte insane verso queste omissioni queste trascuratezze spirituali tranquillizza i membri del suo popolo mentre li chiama a sé per far sì che possano affrontare il ricordo dei loro peccati in modo da non restarne condannati schiacciati confusi perché lui vuole fare grazie vuole dare luce e così il signore fa anche con noi con me con te la memoria la testimonianza del peccato ci può raggiungere in vari modi siamo a volte inconsci a volte ne siamo consapevoli la memoria del peccato può pesare in vari livelli con diverse conseguenze ma ricordare il peccato davanti a dio alla sua presenza insieme a lui è la via più sicura è la via più protetta per poter davvero ricordare il peccato ma non esserne confusi e neanche schiacciati e poi con dio assieme a dio scoprire che il peccato si può anzi si deve dimenticare un miracolo della grazia c'è il caso in cui il ricordo meglio la coscienza del peccato ci raggiunge per la voce stessa del signore con l'annuncio della sua parola con la testimonianza dello spirito santo a volte cioè abbiamo trascurato di onorare il signore abbiamo obbligato di servirlo e quindi il signore ci ricorda questo ci imputa questo ma ricordarlo perché dio ce l'ha ricordato e quindi ricordarlo davanti alla sua parola confessarlo significa andare incontro al perdono del signore dio nel perdonarci ci dice che ha dimenticato la sua promessa è non mi ricorderò più dei tuoi peccati noi dimentichiamo perché non siamo capaci di ricordare il signore invece dimentica perché non vuole più ricordare e tantomeno vuole rinfacciare o far pesare i nostri peccati quindi stamane vai a gesù in preghiera invocalo confessali i tuoi peccati non risveglierai la sua ira non temere ma piuttosto sarai risvegliato e benedetto dalla grazia del signore c'è poi anche il caso in cui ricordo del peccato che già è stato perdonato da dio a volte ci coglie mediante la voce degli uomini che rinvangano le cose passate ma invece di farci processare da parole di farci condannare da tante immagini parliamone con dio signore ci aiuterà sempre a poter rispondere a questi pensieri a queste voci a questa immagine del passato con le certezze spirituali dell'evangelo perché è scritto che se noi confessiamo il nostro peccato dio è fedele giusto da perdonarci e da purificarci da ogni iniquità quindi noi stessi possiamo parlare non per assolverci ma per giustificarci non abbiamo necessità di altre nuove particolari rivelazioni abbiamo già la parola di dio possiamo parlare noi stessi abbiamo già una parola ferma e sicura per affrontare i ricordi che a volte ci sorprendono in maniera distruttiva mali commessi o cose non fatte magari decenni fa possono essere un macigno che ostacola oggi la nostra fede perché non lo abbiamo portato a dio mentre invece delle cose che abbiamo commesso ieri dei peccati tra virgolette ancora freschi possono non avere più alcuna consistenza spirituale non costituire più un impedimento nella nostra vita spirituale perché dio li ha perdonati nel momento in cui li perdona li cancella li dimentica li getta nel fondo del mare quindi vai alla parola in questo momento stesso e fai tu e le sue promesse rispondi a questi ricordi con le promesse di dio che se sono nel nostro cuore saranno anche nelle nostre labbra altra situazione poi è quando il ricordo del peccato ci opprime mediante i nostri riflessi cerebrali le facoltà della nostra mente di ricordare insomma per via delle nostre emozioni ma dio ci rasserena dicendo ancora una volta che lui non ricorda e che nulla nessuno potrà risvegliare la sua memoria e la sua ira su di noi per i peccati che abbiamo commesso questo ci meraviglia ma è una realtà teologica che non scalfisce affatto le assolute perfezioni del signore perché il sangue di gesù ci lava e ci purifica da ogni peccato cancellandolo quindi riducendolo come se non lo avessimo mai commesso quella cosa che avremmo dovuto fare non abbiamo fatto dio ha dimenticato quella cosa che abbiamo commesso il signore l'ha cancellata quindi non dobbiamo assimilare le nostre capacità di memoria le nostre facoltà di registrare i fatti e le circostanze alla memoria del signore non dobbiamo confondere la memoria umana con la memoria divina il nostro cervello registra tante cose ma questo non significa che quello che io ricordo dio me lo stia imputando io sto ricordando ma dio ha dimenticato quindi non stancarti non lasciarti fiaccare anche quando certe cose riaffiorano alla tua mente quando certi ricordi ancora appaiono così in maniera da volerti spaventare opprimere non stancarti di andare a discuterne col signore di portare ogni cosa ai suoi piedi e non lasciare parlare soltanto i tuoi ricordi ma parla tu con le promesse della parola di dio non stanchiamoci neanche delle correzioni del signore delle sue esortazioni fidiamoci dio parla per il nostro bene glorifichiamo il signore se noi alleniamo la nostra anima ad essere illuminata nella comunione con dio se noi alleniamo la nostra mente ad essere rinnovata dalla parola di dio acquisiremo un discernimento profondo che ci permetterà di avere una memoria risvegliata cioè una memoria capace di ricordare quello che dio ricorda è capace di dimenticare quello che dio ha dimenticato questa è una memoria risvegliata ne abbiamo bisogno una memoria rinnovata e santificata ne abbiamo urgente necessità perché questo ci libererà da tanti pesi da tanti lacci da tante insonnie da tanti tormenti da tante inquietudini poter veramente ricordare come dio ci fa ricordare le cose poter andare al signore che si rivolge stamani a noi si rivolge a ciascuno di noi al singolare parla tu stesso risveglia tu stesso la mia memoria dice il signore perché io non ricordo quelle cose non le ricordo più e mentre tu me ne parli perché le emozioni ti portano ancora a sentirti condannato oppresso io ti confermo che non le ricordo più anzi io ti aiuterò a non ricordarle neanche tu e se affioreranno ancora la tua mente allora la tua mente sarà di nuovo rinnovata da quelle promesse della parola di dio che dicono che nel nome di gesù e per il suo sangue siamo stati perdonati purificati i nostri mali i nostri misfatti sono stati cancellati una volta e per sempre dio benedica e rassereni la tua anima in questo giorno